Uno degli assessori più dinamici presenti in piazza per la festa del Campobasso. Guarda Giovanni, quanto si crede in questa squadra? Tanto perché i colori rosso-blu rappresentano l'intera città. Siamo riusciti a trovare un giusto connubio, amministrazione con i dirigenti e con il presidente Giulio Petrucci per poter far sì che il Campobasso riesca a brillare anche una serie superiore e ci impegneremo per quanto di nostra competenza a avere massimo impegno per portare il Campobasso in una lega superiore a quella di esso. Eppure i problemi non mancano, i problemi legati allo stadio vorrebbero una piena efficienza. A che punto siamo? I problemi guai se non ci fossero, che società sarebbe? Scherzo. Penso che tutto è risolvibile, il sindaco Battista con l'assessore Pietro Maio lavoreranno sicuramente per mettere in condizione e che lo stadio possa tornare idoneo per una categoria superiore.